Dalla Regione Molise arriva una prima risposta alla platea di disoccupati rimasti senza lavoro a seguito delle numerose crisi aziendali che hanno funestato il Molise e che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali. Stiamo parlando di un bando che stanzia 1.750.000 euro in favore di progetti realizzati da enti e istituzioni per assorbire mano d'opera da destinare a lavori di pubblica utilità. Il bando predisposto alla fine del quinquennio Frattura era rimasto bloccato misteriosamente in qualche cassetto che i nuovi amministratori hanno opportunamente provveduto ad aprire. In questo modo comincia a mettersi in moto quella filiera lavorativa bloccata per molti ormai da tempo. E' il caso ad esempio per una parte degli ex lavoratori dello zuccherificio del Molise. Una risposta concreta che restituisce dignità alla parola lavoro hanno sottolineato sia il presidente Toma che l'assessore al lavoro Mazzuto. Cominciamo a dare delle risposte concrete non in termini di politiche passive ma in termini di politiche attive, quella che è nelle mire di questa amministrazione. 1.750.000 euro destinati per intenderci ai lavoratori ex zuccherificio ma tutti quei lavoratori che sono nelle stesse condizioni degli ex zuccherificio. La novità assoluta che vorrei evidenziare e che mi permetto di cogliere e far notare è quella che passiamo, ripeto, da un'azione di politiche passive ad un'azione di politiche attive. Che cosa significa? Significa che cerchiamo di dare dignità alla persona riportandola nel sistema produttivo. È un bando destinato agli enti locali ovviamente quindi questi lavoratori potranno essere assunti, potranno essere chiamati a fornire la loro funzione all'interno degli enti locali ma è altrettanto vero che il 1.750.000 euro stabiliti con le politiche attive possa essere integrato laddove ricorrono le condizioni dagli enti locali stessi che beneficiano di questo apporto. Adesso dopo questo primo passo si attendono interventi strutturali per i quali verosimilmente e visti i danni provenienti dal passato occorrerà tempo e dedizione. Toma ha esordito come presidente della regione pronunciando tre parole lavoro 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 i disoccupati e le vittime delle crisi rispondono ogni giorno anche loro sempre con tre parole subito subito subito.